... Cuoricini rossi per Tria. Chiaro una cosa, piena fiducia nel ministro dell'economia, Giovanni Tria. Tria può dormire sonni tranquilli? Gli italiani possono dormire sonni tranquilli. Il ministro Tria mi sembra una brava persona, uno è Tria, che si dibatte fra l'angelo destro e l'angelo sinistro e guarda Gesù Cristo. Padre Eterno, di quanti mi liberi di questi due, che tirano e tirano la giacchetta e io non ho una lira manca per pagare lo stipendio di domani dei dipendenti? Non lo capite. La Tria si deve dimettere. Non appartiene al dibattito parlamentare, ma insomma al gossip che al momento non seguiamo. Nessun pericolo. Nessun pericolo. Non gli esteri per le armi? No, non gli eserci. Ma no, ma sembriamo pericolosi. Pericolo di vita. Con il cuoricino in mano pure. Lo stiamo portando a te. Sa che pericolo abbiamo. Però la pressione c'è, dai. Beh, 80-120. Quindi direi proprio che al momento va bene. Sì, 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 assolutamente.